www.bitalent.it No, guarda, questa roba per ragazzi, tu con tutta questa chiesa, famiglia cristiana, ci sentiamo più avanti, cosa ne dici? Ah, ciao Maria! Era dei Filippi, da quando è iniziato B-Talent non mi lasciano un attimo in pace, comunque adesso godetevi la seconda giornata di casting. Sì, Maria, dicevi? Ah, benissimo, bene, bene, molto bene. Qual è il tuo nome? Sara Mich. Oh, Sara. Quindi, cosa ti senti? Un po' di musica operativa. Un po' di musica, da The Phantom of the Opera. Yeah. Wishing you were some. Nice choice. You were once my one companion, you were all that mattered, wishing you were somehow here again, wishing you were somehow near. No more memories, no more silent tears, no more gazing across the wasted years. Let me say goodbye, let me say goodbye, let me say goodbye. Allora, cantaci pure i brani che hai portato e noi ti ascoltiamo molto volentieri. Allora, tu sei Eleonora, giusto? Fai secondo Arlo Clark? Sì. Cosa hai un... Poi iniziando a quello che preferisci. E non so perché quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ora ancora d'ora e dirti tutto di me. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi senza quella sensazione che non mi fa dire Che mi piaci per davvero anche se non te l'ho detto perché squallido provarci solo per portarti a letto. E non me ne frega niente se dovrò aspettare ancora per parlarti finalmente, dirti solo una parola. Ma dolce più che posso, come il mare, come il sesso, finalmente mi presento. La scelta sarà ardua e il mondo degli artisti, si sa, è pieno di gente frizzante, eccentrica. Anche un pochino, come posso dire, extravagante. Ti chiami? Diana. Diana? Sì. Hai studiato la Bocconi? No. Fuori! Sì, lo so che sono gli studenti di Bocconi che possono partecipare. No, no, va bene. Ok, questa è la mia, vinca. Scherziamo. Nel regolamento c'è scritto gli studenti di Bocconi e le studentesse ucraini, quindi proprio... No, 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 don't speak, I know what you're thinking, I don't need your reasons, don't tell me cause it hurts. Oh, oh, don't speak, I know what you're thinking, so please stop explaining, don't speak, don't speak, don't speak, no. Grazie, grazie mille, bravo, molto bravo. Simone. Sì. Allora, ci fai sentire? L'host di Bublé, che io mi sono divertito a fare una traduzione in italiano. Benissimo. E così è passata la storia di noi due E ripenso a quel mattino quando tu Ed esti proprio me Fra tutta questa gente Non ti fui indifferente E perché lo sai E se ti senti sola Ricorda sempre che Guardando in fondo al cuore Puoi trovare quello che Ti farà superare Tutti i momenti bui E se non ci riuscirai Tu cercami e così Io sarò con te Ok Diciamo Cioè parole di Bublé tradotte Però musica tu Cioè la melodia da dove veniva fuori I casting sono terminati Noi ne abbiamo visti soltanto alcuni Ora sta ai music assistant Prendere le loro decisioni E scegliere quali concorrenti Porteranno nelle loro squadre Mi stavo aspettando Entrate pure E scegliere quali concorrenti E scegliere quali concorrenti